Quindi è già un romanzo che va a toccare un tema che non è quello banalmente della sessualità, è un tema che riguarda la vita, la vita to court, cioè la scelta che facciamo noi di vita, la soddisfazione che nella vita che stiamo facendo troviamo o non troviamo. E quindi è un romanzo sulla vita. Qualcuno, negli appunti così che trovo, mi aveva fatto osservare che si potrebbe parlare di romanzo di formazione. Siccome la signorina qua ha 40 anni, credo che la formazione sia finita, però mi piace il termine. Forse si potrebbe pensare a romanzo di trasformazione, che è una cosa che viene dopo la formazione. Uno a 18, 20, 25, 30 anni si forma, arriva a 40 anni e pensa di aver finito. E invece no, lì comincia un altro processo lento e forse anche più difficile, cioè la trasformazione. La vita va avanti, il tuo fisico cambia, le tue amicizie prendono vie diverse, le possibilità della vita si intrecciano e tu sei obbligato a trasformarti. Però il problema è che più andiamo avanti nell'età, più diventiamo, come dire, abbastanza coriacei, cioè facciamo fatica ad adattarci e quindi la trasformazione diventa pesante, diventa difficile, diventa a volte tragica. E siccome appunto è un romanzo sulla vita, si intrecciano dentro questo romanzo tantissime cose, cioè oserei dire tutte le cose della vita con cui abbiamo a che fare.